E' stata inaugurata nei giorni scorsi a Valle dell'Angelo, il più piccolo paese del Cilento, la prima caserma d'Italia dei carabinieri forestali. La struttura è infatti proprio la prima ad essere stata aperta in Italia dopo la riforma del Corpo Forestale ed è stata inaugurata la presenza del primo cittadino del borgo occidentano Salvatore Iannuzzi, dal sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali Giuseppe Castiglione, dal vicepresidente della Commissione Ambiente Tino Iannuzzi e dal generale Antonio Ricciardi, comandante dell'Unità per la tutela forestale, ambientale ed agroalimentare. Il comando avrà sede in una struttura recentemente ristrutturata da parte del Comune e farà parte del coordinamento territoriale carabinieri per l'ambiente di Vallo della Lucania. Il territorio della nuova stazione carabinieri forestale comprende un'area di circa 16.000 ettari, con competenza sui comuni di Valle dell'Angelo, Piaggine e Sacco. La caserma, costruita su un solo piano, consta di aree operative e logistiche moderne e funzionali, nonché di confortevoli camere per il personale a casermato. L'apertura della caserma Valle dell'Angelo, ha commentato il sindaco Iannuzzi, vuole essere il segno di una riaffermazione dello Stato, anche nei territori più periferici, dove il grande tesoro del paesaggio regalato da madre natura necessita di custodi di tradizionale competenza. I carabinieri forestali, ha dichiarato invece il generale Sergio Costa, comandante regionale, desiderano essere polizia di prossimità ambientale, proprio partendo dai piccoli centri dove la presenza dello Stato è più di una presenza ordinaria. È una vicinanza di intenti e di cammino. Ogni piccolo centro, a concluso Costa, è in questo modo un grande luogo d'incontro per la migliore tutela del territorio, vicini e affiancati, mai distanti.